Sono due gli armatori saccensi sanzionati dal Circomare di Sciacca e il provvedimento si inquadra nell'ambito dei controlli finalizzati a verificare il corretto svolgimento del fermo biologico attualmente in corso. In pratica svolgevano attività di pesca durante il fermo ma non avrebbero rispettato l'obbligo di avere a bordo un quantitativo prevalente di gambero. La deroga infatti è consentita solo alle barche per la pesca del gambero che in quanto imbarcazioni che effettuano la pesca d'altura possono effettuare i 30 giorni di fermo entro la fine dell'anno. E così per i due natanti sono scattati il sequestro del pescato ed una sanzione di 4.000 euro per i due armatori. Ad eseguire i controlli sono stati gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Sciacca, un periodo quello di sospensione delle attività in cui i natanti possono non effettuare il fermo di pesca ma a bordo deve essere il gambero il quantitativo prevalente rispetto alle altre specie ittiche per non incorrere in sanzioni, una disposizione che i due natanti dunque non avrebbero rispettato. Le due cooperative di pesca annunciano ricorso, sostengono che non è chiaro se il quantitativo di gambero debba essere prevalente rispetto a tutte le altre specie ittiche a bordo o superiore della metà rispetto al resto del pescato. Fermo biologico intanto alle battute finali, visto che le attività di pesca riprenderanno la prossima settimana.